Emanuela Goldoni, Social Media Strategist. Gli ingredienti che assolutamente non devono mancare in una strategia digitale. Grazie. Contesto. Poi direi contenuto. Contenuto deve essere rilevante, come ricorda il buon Paolo Iabichino. Concetto di nicchia, di rete, di audience. Io vado a colpire una nicchia perché voglio che la nicchia sia lo strumento che mi permetta di arrivare alla folla. Un altro elemento che oggi è imprescindibile è il budget per allocare le risorse per l'advertising. Perché oggi con l'organico si fa poco. Ciò che alla fine rende veramente produttiva, ad alte performance, una campagna, è proprio l'allocazione di budget, quindi risorse economiche per poter poi fare in modo che il piano strategico, assieme agli obiettivi che sono stati fissati, assieme al tipo di contesto, assieme al tipo di nicchia, ai vari indicatori di performance, insomma questi sono gli elementi fondamentalmente che sono utili per un piano strategico, possa quindi portare dei famosi risultati, quindi la benedetta conversione che tutti aspettano. Poi per il discorso conversione ce ne possono essere, diciamo, non infinite. Alla fine quando si parla di conversione tutti sono abituati a pensare, ok, che cosa mi porto a casa, che cosa è il risultato, quanto ho venduto, ma in realtà dipende ovviamente sempre dalla strategia. Perché non si vende solo, cioè vendere non è l'unico obiettivo di una strategia digital. Grazie.